Piccoline del gruppo, come vi siete appassionate a quest'arte? Perché non è semplice, io sono arrivata qui, ho visto tutte queste mani veloci veloci, mi sono un po' spaventata. Voi non vi siete spaventate perché lì c'è un'altra piccolina. Come avete iniziato? A me perché mamma lo faceva e quindi volevo farlo anch'io. Vediamo sempre che mamma lo faceva. Wow, e tu invece? L'esempio più bello, vedi? E tu invece come hai iniziato? Perché ho visto mia nonna e ho iniziato a fare il tummola. Siete parenti o no? Cugine, ecco vedi. E lei è la nonna. Ah, è vero. Dov'è la nonna? Rita. È una nonna giovane però. È una nonna giovane. È una nonna giovane.